Se ce l'avessero detto un anno, un anno e mezzo fa, che il mondo era fatto di persone che camminavano per strada, con la mascherina avremmo pensato a un film di fantascienza. Questa mascherina che naturalmente ci protegge ed è necessario per evitare che il contagio prosegua, è un fattore sicuramente limitante della nostra comunicazione. Eravamo abituati forse a vedere giusto i medici con la mascherina, adesso ce l'hanno tutti. Cosa sta comportando questa mascherina? Una difficoltà di comunicazione, perché avere qualcosa che ci copre il viso non soltanto ci fa sentire meno o ci costringe a parlare più forte, ma è come se creasse una maggiore distanza, almeno ce lo fa pensare. Però se ci pensiamo bene, in realtà la mascherina ci costringe anche a guardarci di più negli occhi e gli occhi, come sappiamo, dicono tanto. Ci permettono di avere più pazienza, magari ripetere più volte e bisogna quindi anche avere il coraggio che se non capiamo chiediamo. Perché tanto abbiamo la mascherina. Quindi in fondo è vero che è una grossa limitazione, ma come tutte le limitazioni, se noi cerchiamo di trovare qualcosa di positivo da imparare e usare altri tipi di comunicazione, che a volte ci dimentichiamo perché a volte pensiamo che sia soltanto la voce la comunicazione, possiamo imparare qualcosa. un gesto, uno sguardo e anche un sorriso con gli occhi.